Nuovo brusco calo delle vendite di autovetture nuove in Europa, complice la pandemia da coronavirus, a maggio 2020 le immatricolazioni hanno registrato una flessione del 52,3% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, un dato che gli esperti definiscono catastrofico. Il crollo delle vendite di auto riguarda tutti i 27 paesi dell'Unione, anche se il calo di maggio risulta inferiore a quello di aprile. In cima alla classifica, la Spagna, che ha registrato un meno 72,7%, segue la Francia con un meno 50,3%, l'Italia con un meno 49,6% e la Germania, con un dato analogo. Il calo delle immatricolazioni colpisce tutte le marche, con una forchetta compresa tra il meno 56,4% di Peugeot Citroën e il meno 50,4% di BMW. La stagnazione delle vendite, secondo gli esperti, causerà nei prossimi mesi decine di migliaia di licenziamenti, in parte annunciati da diversi costruttori all'inizio della pandemia. In Francia, Renault prevede di cancellare 1.500 impieghi nel settore ingegneristico, nel quadro di un piano di ristrutturazione destinato a tagliare spese per 2 miliardi di euro nei prossimi tre anni.